È stata una gara sotto profilo psicologico da gestire, non semplice, però quando abbiamo dovuto accelerare abbiamo dato uno strappo importante e era fondamentale per noi chiudere qui al comando, vincere la gara per una questione di punteggi, dunque faccio ovviamente un complimento ai miei avversari e non posso che complimentarmi anche ovviamente con FPF, con Pirelli, Sparco, i nostri partners, SRL e Pietro che fra ieri e oggi è stato un compagno di merende invidiabile perché non è stato semplice gestire tutto ma come sempre siamo stati sul pezzo, siamo stati solidi. Grazie per la visione!